22 e in particolar modo seguo la parte europea anche se per arrivare appunto alla parte europea ovviamente c'è una forte aderenza anche a tutte quelle che sono le attività più nazionali o più locali e per quanto mi riguarda diciamo che per chi appunto mi conosce sono forse più conosciuta per quella del corso Unitelma sulle competenze digitali per pazienti e caregiver esperti in appunto tecnologie digitali. In realtà diciamo che il mio ambito tra virgolette di interesse e di competenze sono sì le competenze digitali ma la parte appunto forse un po' più diciamo del facilitare la mediazione e la relazione tra parte istituzionale e parte appunto delle associazioni dei pazienti perché su questo punto lavoro molto di più sul processo non tanto sul diciamo sul settore. Ecco dunque per parlare è tutto posto vero qua ok scusate perché non vorrei cadere giù l'ho già fatto sono sempre in streaming giusto ok per quanto riguarda il appunto il progetto facilitate è un progetto davvero molto molto interessante e molto importante per noi pazienti e per noi caregiver dunque per introdurre questo progetto ovviamente ho iniziato con tre immagini che credo per coloro che hanno una formazione in biologia in medicina e in tecniche di laboratorio ad esempio siano abbastanza conosciute queste tre tre immagini. Secondo voi che cosa sono? Sono le famose cellule ELA. Le cellule ELA. Le cellule ELA sono ecco qua le cellule di questa signora che si chiama Henrietta Lacks. No è sparito? Cos'ho fatto? Ok. Henrietta Lacks appunto questa signora che nel 1950 circa è stata curata è stata curata da uno dei pochi ospedali americani che offrivano cure alle persone afroamericane per un tumore. Il John Hopkins University Hospital all'epoca prelevò un campione del suo tumore e lo analizzò in laboratorio. La differenza del suo tessuto rispetto a tutti gli altri tessuti di tutte le altre persone è che le cellule non morivano proliferavano e questo per la ricerca di laboratorio ha rappresentato come si suol dire miliardi di dollari in senso proprio economico. Peccato che però quel tessuto che ancora oggi viene utilizzato per la ricerca è stato prelevato senza il consenso di Henrietta. Henrietta non lo sapeva eppure Henrietta è diciamo la persona da cui ha generato tutto il grandissimo cambiamento in ricerca di laboratorio. Chiedo scusa sì saluto Silvia e questo ci deve far pensare perché dal nostro punto di vista ancora oggi siamo a rischio siamo in situazioni spesso in cui non è chiaro l'utilizzo dei nostri tessuti delle nostre dei nostri dati ed è il motivo per cui il progetto Facilitate sta dando tantissimi risultati ovviamente il meccanismo operativo appunto del progetto Facilitate un meccanismo che richiede veramente tanto lavoro ma soprattutto tanto spirito diciamo di collaborazione e di solidarietà a volte. Pensiamo però che Henrietta Lacks sia l'unico caso no invece perché purtroppo comunque ci sono anche tante altre sperimentazioni che hanno fatto senza il consenso delle persone. Hanno scritto un libro dal libro hanno poi fatto un film vi consiglio veramente di andarlo a vedere perché se volete sapere che cos'è il progetto Facilitate andate a guardare quel film perché dal punto di vista pratico quel film che si intitola proprio la vita immortale di Henrietta Lacks rappresenta tutto quello che noi vorremmo che non accada più da una parte dall'altra parte invece vorremmo ottenere per tutti. E dunque ci sono come vi ho detto altri dilemmi bioetici che richiamano sempre ovviamente le sperimentazioni cliniche fatte fortunatamente nel secolo scorso ma il cui rischio però c'è ancora perché nella diciamo nella corsa al progresso veloce a volte non si fa attenzione a quei passi e a quelle fasi particolarmente importanti. Allora questi ho riportato appunto gli esempi di queste sperimentazioni cliniche che hanno effettivamente determinato anche la pubblicazione, l'accordo e alcuni accordi importanti a livello internazionali inseriti all'interno della documentazione dei comitati etici. Immagino che vi abbiano già parlato ampiamente dei comitati etici. Allora Facilitate da qui in poi partiamo effettivamente a parlare di Facilitate. Allora non ne parlo da sola nel senso che Facilitate in realtà è rappresentato da un gruppo di persone. Io diciamo sono quella che porta un po' la voce ma in realtà è un gruppo di persone che stanno seguendo direttamente il progetto Facilitate ed è in particolar modo qui rappresente Ursula Bonetti che già avete conosciuto e che poi vi racconterà la sua esperienza come paziente esperto e upati inserita nel gruppo del punto del progetto Facilitate. In collegamento abbiamo Angela Zarello che appunto racconterà anche la sua esperienza come persona che desidera entrare che sta per entrare appunto nel progetto Facilitate e poi Stefania Piras che anche lei appunto è una persona un paziente esperto e upati molto attivo appunto nel progetto Facilitate. Ovviamente ho parlato ho fatto l'elenco appunto delle persone in ordine non neanche in ordine alfabetico in ordine casuale però la successione delle relazioni hanno poi un filo logico Allora come si fa ad andare avanti? Ah ok no devo andare ok dunque Facilitate è l'acronimo sostanzialmente un acronimo un po' fantasioso di un titolo al cui interno troviamo già tutte le parole le chiave del progetto. Innanzitutto framework quindi struttura per il riutilizzo dei dati dei partecipanti ai trial clinici per un ecosistema in un ecosistema pienamente trasparente ed etico. Questo cosa significa? Che la parola chiave per quanto riguarda oggi è il riutilizzo ma il riutilizzo significa ben altro del semplice riutilizzo e dunque il progetto Facilitate va verso la direzione del creare una struttura eh armonizzata delle raccomandazioni delle procedure che siano appunto le più armonizzate possibili all'interno di un ecosistema non soltanto nazionale ovviamente europeo ma con forti legami a livello internazionale quindi è un progetto questo davvero molto molto importante rappresentato sostanzialmente da 29 partner quindi molto impegnativo anche dal punto di vista semplicemente della coesione organizzativa di 29 partner che ehm hanno anime diverse perché rappresentano questi 29 partner i due mondi diciamo così del programma IMI quindi la parte diciamo dei centri pubblici delle istituzioni pubbliche dell'accademia dall'altra parte il mondo delle imprese dunque sapete che il progetto il programma IMI che è un programma appunto di horizon della commissione europea e un programma finanziato proprio al 50% dei fondi pubblici che provengono dalla commissione europea e l'altra parte il 50% dall'FPA e dunque la la federazione europea delle associazioni e delle imprese del mondo farma dunque queste due anime sono le anime che sostanzialmente sostengono il progetto il progetto Facilitate quindi immaginate l'impegno e anche l'importanza della mediazione della comprensione di tutti i punti di vista ehm dal punto di vista organizzativo abbiamo appunto 29 partner 16 paesi europei questi 29 partner sono centro di ricerca ehm associazioni organizzazioni di rappresentanza appunto dei pazienti eh nel progetto Facilitate poi Stefania ci parlerà un po' di più anche delle dei partner ehm abbiamo tre appunto eh organizzazioni di rappresentanza abbiamo innanzitutto eh Eupati ovviamente Accademia del paziente esperto Eupati e partner a tutti gli effetti del progetto Facilitate Euroordis e cittadinanza attiva poi abbiamo sei centri clinici e accademici cinque ehm imprese di cui quattro piccole e medie imprese e undici quindi capite il peso undici partner all'interno appunto dell'FBI e quindi questa è la diciamo è la 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 l'organizzazione appunto del consorzio all'interno del quale troviamo tutte le competenze necessarie per dare sostanzialmente una risposta all'obiettivo del progetto Facilitate in termini etici legali regolatori procedurali e soprattutto eh nel pieno rispetto di quelli che sono i diritti appunto dei pazienti rappresentati ovviamente dalle organizzazioni partner eh la durata del progetto in tutto sono quattro anni finirà alla fine del duemila e venticinque parlo guardo anche Giuditta che fa parte appunto integrante del del progetto Manuela eh anche lei fa parte appunto integrante del progetto il budget come vedete un budget impegnativo perché superiamo i sei milioni di euro ovviamente eh in budget quindi in cash e dall'altra parte anche in kind poi appunto i ventinue partner provengono sostanzialmente da venti paesi della dell'Unione Europea e questo significa che a livello di rappresentanza anche questo progetto rappresenta diciamo non dico la totalità dei paesi membri della Commissione dell'Unione Europea ma rappresenta una buona parte del dei paesi e poi ci sono sei sette paesi extra eh Europa e c'è anche la l'America negli Stati Uniti perché ci sono degli osservatori proprio dell'FDA e dunque eh è un punto come vi ho detto è un è una partnership pubblico privata ci sono appunto undici che provengono dal mondo del farma e poi ci sono appunto i diversi le diverse commissioni ehm però andiamo a vedere subito che cosa si cos'è il progetto Facilitate e il mio augurio ovviamente è quello di ingaggiarvi nel progetto Facilitate perché mi rivolgo innanzitutto a voi perché siete già pazienti caregiver esperti o parti da ieri da poche ore però avete già questa formazione e questa formazione è molto riconosciuta all'interno del progetto Facilitate e come non soltanto ovviamente nel progetto Facilitate anche in altri eh in altri ambiti però diciamo che c'è una forte attenzione alle alle opati in questo progetto dunque quali sono i valori i valori di questo progetto ovviamente eh sono eh partire dal paziente e questo lo vediamo in tutte le riunioni in tutti i meeting a cui partecipiamo partire dal paziente significa che il diciamo gli esperti gli scienziati ricercatori danno risposte propongono risposte a partire dai bisogni rappresentati ripresentati direttamente dai pazienti per esempio una serie di riflessioni su un piano anche etico e legale di alcuni termini sono nate non dagli avvocati ma sono nati da noi la differenza la differenza per esempio tra paziente soggetto e persona bella perché tendiamo comunque a considerare sinonimi mentre sinonimi non sono perché non tutti i pazienti che entrano in ospedale sono pazienti non tutti le eh i soggetti che entrano nelle sperimentazioni cliniche sono necessariamente pazienti e dunque ci sono una serie di riflessioni che effettivamente devono essere eh considerate dunque pazienti per primo eh l'ottimismo quindi il il è importante in questi gruppi di lavoro cercare di essere più collaborativi possibili propositivi possibili ottimisti possibili e l'ottimismo e non è una cosa diciamo così frequente la troviamo diciamo un po' raramente a volte però dobbiamo essere effettivamente ottimisti per eh il risultato che vogliamo portarci a casa e anche l'integrità è una cosa importante dunque la trasparenza e in questi gruppi di lavoro effettivamente si lavora molto su un piano anche della trasparenza cioè se hai un dubbio lo dici se hai se qualcosa non capisci lo chiedi eh c'è spazio per una un confronto continuo e una diciamo anche una dialettica continua e poi la trasforma il passaggio un paradigma diverso e dunque nel passaggio del paradigma se prima si pensava sempre solo esclusivamente a un modello diciamo dell'innovazione che considerava il mondo ad esempio delle imprese il mondo delle università insieme oggi il modello della diciamo delle dell'innovazione che ispira quello che è il nuovo paradigma prevede le quattro assi i quattro assi dell'innovazione quindi regolatorio istituzionale le imprese la ricerca l'università e i pazienti e dunque da questo punto di vista un cambio di paradigma mentale importante questo serve per che cosa per fare questo diciamo questo andare avanti fare un passo in avanti ovviamente ci sono delle riflessioni molto più importanti di quelle che possiamo fare adesso ma il tempo ovviamente è minimo per parlare appunto dei contenuti specifici del progetto facilitate però vi do un assaggio l'assaggio sostanzialmente parte dal dato che può essere dato genetico clinico sanitario personale eccetera il dato dobbiamo governare e regolamentare in modo diverso non la proprietà del dato ma l'uso che se ne fa e le autorizzazioni all'accesso a quel dato perché da quel dato ricadono una serie di come posso dire di criticità di problemi uno di questi e ovviamente adesso si parla tanto di intelligenza artificiale ma l'intelligenza artificiale parte da che cosa da quella che la base qua ovviamente in aula abbiamo un esperto anche di intelligenza artificiale che ho invitato a partecipare a questa sessione che Fulvio Ananasso è la stati generali dell'innovazione di Roma no non è vero che sia un tuttologo comunque l'intelligenza artificiale è diciamo correggimi se sbaglio più efficace se la base dei dati è stata raccolta in modo corretto i dati sono puliti i dati sono significativi i dati sono conservati anche secondo certe modalità e dunque e soprattutto conservati non in silos ma in sistemi interoperabili dunque questo è uno dei ovviamente delle ricadute per cui se già iniziamo ad esempio a settorializzare l'uso dei dati o l'accesso ai dati cosa succede che quello che è il nostro futuro è un futuro che è a metà o non completamente non non completo ecco e dunque se appunto intelligenza artificiale l'analisi predittiva anche ad esempio il non tanto la proprietà del dato ma l'accesso all'uso dei dati e poi soprattutto il concetto appunto di good quality data l'ambizione le ambizioni del progetto facilitate sono diverse ne cito solo alcuni innanzitutto il concetto di partnership il concetto di partnership è la condizione dove voi come appunto pazienti e caregiver esperti in ricerca e sviluppo di nuovi farmaci nuove tecnologie e upati potrete poi collaborare più proficuamente con appunto i gruppi di lavoro ma la condizione è il partenariato la partnership non soltanto l'engagement non soltanto il coinvolgimento che può essere più o meno attivo ma il concetto di partnership è un concetto che mette nella condizione le persone che hanno acquisito una certa competenza di poter dare lo stesso voto il voto con lo stesso significato lo stesso peso di tutti gli altri quindi nella fatti specie che cosa vi sto dicendo nel gruppo di lavoro e nei gruppi di lavoro del progetto facilitate la partnership tra le persone prevede che cosa che io Sabrina Grigolo ho lo stesso diritto di voto e lo stesso valore del mio voto rispetto al più grande professore ordinario ad esempio di diritto internazionale il mio voto ha lo stesso valore del suo quindi questa diciamo questo riconoscimento reciproco questo mutuo riconoscimento reciproco si nasce da che cosa da un rapporto di partenariato non soltanto da un rapporto di coinvolgimento il coinvolgimento può essere più o meno attivo il partenariato invece mi permette di essere lì con lo stesso valore che ha l'altro ok questo è un esempio ma è un esempio di un'ambizione che però si sta concretizzando ovviamente un po' a fatica guardo Ursula però con un po' di fatica stiamo cercando appunto di arrivare a questo a questo livello di garantire appunto il proseguimento di una collaborazione che nasce però da un partenariato una nuova modalità anche legale ed etica per permettere appunto ai pazienti l'accesso di essere di riutilizzare di riaccedere appunto ai propri dati cosa che oggi si fa solo in parte e spesso non c'è neanche la restituzione dell'uso dei dati ai pazienti durante e dopo le sperimentazioni cliniche un più efficace e un più sicuro comunque processo che determina ovviamente la produzione di nuovi farmaci e anche da questo punto di vista basato sul patient centered come concetto anche se comunque il patient centered su un piano forse di facilitate lo possiamo vedere da altre parti il patient centered ho qualche dubbio che esista veramente quindi ma questo lo sanno molte le persone molto le persone che mi hanno magari sentito parlare in altri eventi pubblici il chi ha ruoli chiari e dunque il chi fa che cosa è sicuramente comunque un elemento importante in questo processo che è particolarmente complicato sul riutilizzo dei dati nelle sperimentazioni cliniche è ovviamente un cambiamento rispetto alla situazione di oggi perché oggi comunque purtroppo ci porta la situazione in cui ci troviamo porta effettivamente a una serie di limitazioni importanti il piano strategico di facilitate richiama sostanzialmente tre modalità processuali armonizzazione collaborazione allineamento la presa di decisione quindi il processo di presa di decisione parte da un confronto questo confronto si riconfronta si restituisce alla allo stesso gruppo per un confronto eh di secondo livello il confronto di secondo livello del livello porta alla eh diciamo all'integrazione di ulteriori dati le ulteriori l'integrazione delle ulteriori dati portano poi la presa di decisione finale la decisione non la si prende in cinque minuti ma la decisione si prende dopo un processo di armonizzazione collaborazione allineamento e dunque eh ad esempio per processare un documento ci impieghiamo almeno un due mesi uno due mesi ma per l'importanza che quel documento può determinare allora eh nel progetto facilitate come vi ho detto ci sono quattro anime eh dal punto di vista delle competenze dunque c'è ovviamente il la 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 parte del privato gli interessi del privato gli interessi del pubblico gli interessi che derivano appunto dal patient advocacy e quindi dalle tre organizzazioni di rappresentanza dei pazienti nel progetto facilitate e la parte regolatoria dunque questi queste quattro diciamo questi questi quattro aree di competenze sono quelle che effettivamente muovono poi il l'interattività del progetto facilitate ehm la ehm per allineare diciamo gli interessi dei diversi stakeholder lavoreremo su questi eh diciamo ambiti innanzitutto standard quindi sviluppare degli standard per raccogliere processare condividere i dati eh delle dei partecipanti allo studio eh gli standard da approvare ovviamente per il il comitato etico il comitati etici e eh il terzo invece rafforzare ulteriormente il dei pazienti nell'essere coinvolti e le partecipare e poi tutta l'attività regolatoria quindi è un progettone più si entra nel merito del progetto facilitate più ci rendiamo conto che è complesso non soltanto per il tema che porta con sé ma proprio per le procedure organizzative che sono state messe in atto ehm oggi eh come vi ho detto un po' all'inizio oggi abbiamo tre dei i nostri dati sono gestiti in silos non c'è una trasversalità nella gestione nell'archiviazione ma addirittura anche negli stessi consensi informati perché ad esempio ehm questi sono casi appunto eh proprio mh su cui ci siamo anche basati ecco per alcune riflessioni i consensi informati nelle sperimentazioni cliniche non sono soltanto uno ma x elevato alla potenza a seconda del tipo di percorso di esame ehm visite eccetera eccetera quindi dal punto di vista anche diciamo della ricaduta questo determina che cosa che l'uso dei dati all'interno delle sperimentazioni cliniche sono frammentari cioè è frammentario non c'è una eh come posso dire una processualità trasversale e dunque da questo punto di vista eh ci so c'è questo grande punto scopo finale eh che il progetto facilitate vorrebbe affrontare in qualche modo trovare delle soluzioni eh dunque dati clinici attualmente conservati sostanzialmente in un framework a silos e non in un unico tra virgolette grande enorme silos se vogliamo dirlo così eh dove effettivamente si può avere comunque la possibilità di avere dei processi più trasversali e non soltanto ehm diciamo settoriali dunque le riflessioni nascono da quali dati quando e come rendere questi dati non più separati ma interoperabili ehm facendo diciamo una riflessione un po' più generale ehm i dati in questo momento ehm sono separati non soltanto in medicina sono separati sostanzialmente in tanti altri ambiti dall'ambiente al ehm al al food all'alimento al cibo eccetera eccetera la diciamo che non è soltanto un problema squisitamente eh legato alla medicina ma è un problema in questo momento che tocca anche altri settori la cui però sfida quindi il challenge è proprio quello di rendere tutti i dati i più interoperabili possibili eh l'obiettivo principale appunto del progetto facilitate è creare che cosa creare una piattaforma tecnologica eh è un processo un prototipo appunto eh un processo prototipato eh per il riutilizzo dei dati clinici inclusi quelli genetici eh raccolti nelle sperimentazioni cliniche ovviamente dati di pazienti persone che partecipano alle sperimentazioni in un eh framework eh etico eh trasparente corretto ovviamente dal punto di vista normativo eh e eh ovviamente regolato da attività regolatorie ben precise. Ehm dunque eh ovviamente le attività regolatorie legate sostanzialmente al GDPR e al 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 clinical trial eh regulation. Ehm il secondo obiettivo principi i due principali obiettivi se sì eh gli ulteriori due obiettivi principali sono sostanzialmente questi. Dunque ehm di nuovo un framework europeo ehm legato ehm legato ehm allineare e armonizzare a livello locale ed europeo tutta la parte appunto del framework legale delle buone pratiche e delle implementazioni per eh sostanzialmente regolamentare il 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 data protection eh nei stati membri. Il secondo invece eh sostanzialmente consegna diciamo rendere disponibile un processo prototipato a livello europeo per il ritorno appunto dei dei dati. Ovviamente quando si parla di ritorno si parla anche di ritorno nei casi di riutilizzo. Quindi questo è un ulteriore appunto elemento eh che eh è importante sottolineare. Eh i quattro obiettivi specifici sono sostanzialmente questo in particolar modo eh cito eh il primo perché il primo è quello di fatto fortemente sentito proprio dal dall'intero consorzio. Quindi la eh rendere ancora di più capace e ehm coinvolto e partecipe il paziente perché il progetto è interamente basato appunto sul eh sul bisogno dei e sui bisogni dei pazienti. Ehm ovviamente nel generare appunto ulteriori evidenze. Quindi il ci sono quattro fasi esplorati eh trasversali ovviamente queste quattro fasi eh trasversali sono già state sostanzialmente dette prima perché quando si parla appunto di armonizzazione, allineamento ehm e sono già appunto le fasi che si trovano qui. Ehm le quattro fasi ovviamente richiamano anche il coinvolgimento delle delle organizzazioni che fanno parte appunto di questo progetto e quindi da una parte abbiamo la prima eh esplorare, assegnare e allineare appunto tutti gli interessi, tutti i bisogni appunto delle diverse organizzazioni che rappresentano il consorzio, sviluppare eh ovviamente il il modello o rendere comunque ehm diciamo in costruzione quelle che sono le basi appunto per il modello ehm testare il modello appunto questo famoso ehm modello appunto di piattaforma tecnologica per appunto la gestione dei dei dati clinici dei pazienti e eh l'ultimo invece è normare quello che è il termine normare appunto che mi interessa un po' di più perché il risultato finale del progetto Facilitate è sostanzialmente quello di offrire, quello di restituire al al programma IMI all'intera comunità scientifica e non solo ovviamente scientifica quello che è quelle che sono le raccomandazioni per il gli standard e per l'uso appunto del dei dati ehm dal dal punto di vista dell'architettura del progetto e quindi qui eh eh chiedo già a Ursula poi a Stefania e Angela di intervenire. Allora dal punto di vista dell'architettura del progetto questo progetto è costituito sostanzialmente da otto work package. Il primo work package è quello classico sul project management che però è fortemente legato all'ultimo work package che è quello sui eh sui sui requisiti etici. Perché è stato fatto questo? Perché la gestione di un di un progetto come questo parte da un framework etico importantissimo condiviso eh da tutte le parti quindi per mantenere e garantire la coerenza interna tra aspetti etici e gestione del progetto il coordinatore che è Unimore quindi l'università del di Modena e Reggio Emilia eh ha voluto ovviamente coordinare eh in primis questi due work package. Poi abbiamo il secondo work package che è quello sul framework legale e sul data privacy, sulla privacy del punto dei dati. Eh questo work package prevede appunto il un gruppo di lavoro multi stakeholder e soprattutto ehm rappresentato da diverse competenze ovviamente ci sono anche avvocati ci sono comunque eh anche esperti di metodologia della ricerca eh ma ci sono anzi ci siamo noi siamo noi siamo eh un gruppo appunto di pazienti esperti e opati eh di accademia che eh partecipa direttamente alle attività del work package numero due proprio sulla sulla sul confronto di termini sul confronto di modalità sul confronto anche del sull'implementazione delle delle leggi a livello locale e dunque abbiamo già eh prodotto diversi documenti uno di questi è stato ad esempio la mappatura delle leggi e delle norme che eh si utilizzano nei diversi paesi membri eh in merito a sperimentazioni cliniche e gestione dei dati e vi posso assicurare che eh abbiamo molte differenze territoriali anche in Italia semplicemente e questo ci dovrebbe effettivamente far pensare moltissimo perché il confronto ed è questo un po' il valore aggiunto no del lavorare insieme eh grazie appunto Accademia il fatto che comunque siamo in sei, sette, otto persone ma accomunate da un da un'esperienza simile ovviamente essendo comunque formati europati ci permette di portare in evidenza tante di quelle criticità che a livello locale quindi eh all'interno appunto delle delle regioni in cui viviamo troviamo e quindi questo è un valore importante perché non sapevamo che ad esempio una legge da me viene applicato in modo un pochino diverso rispetto alla stessa legge da lei e questo ci deve fare interrogare ci deve veramente fare interrogare eh questo ovviamente determina che cosa un problema ovviamente anche in termini regolatori in termini di standardizzazione di processi e ovviamente gli aspetti etici importanti e in effetti all'interno di questo gruppo di lavoro del work package numero tre ci sono anche bioeticisti ci sono comunque esperti appunto di ehm di 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 etica ehm devo dire con un grande background ehm le work package quattro e questa famosa ehm piattaforma e quindi la definizione della struttura dell'architettura appunto di questa piattaforma e i requisiti di base il work package numero cinque è proprio la il framework tecnologico e le soluzioni di interoperabilità appunto dei sistemi il work package se invece communication dissemination la cui project manager persona di riferimento di Accademia è Paola Kruger e sta stiamo lavorando benissimo con con Paola proprio per realizzare tutti questi eventi anche di disseminazione sul territorio italiano e non solo perché siamo anche eh rappresentati in giro anche a livello europeo e eh il work package numero sette invece ovviamente ricordiamoci è un progetto che ha l'anima anche delle imprese e dunque c'è tutta la parte anche dello sfruttamento e della sostenibilità appunto dei risultati e dunque incluso in questo work package c'è anche il modello di business che ovviamente deve essere eh una una delle diciamo degli output di questo progetto. Quello che è interessante ehm è il il approccio e qui lo ripeto di nuovo del di facilitate perché dal punto di vista processuale noi abbiamo visto fino adesso i work package separati in realtà qui è rappresentato il flusso di informazioni e soprattutto quello che è il flusso decisionale quindi il modo di prendere le decisioni all'interno di facilitate. Il eh vi ricordate il work package numero due quello legale dunque eh il gruppo di lavoro che attualmente sta lavorando, sta collaborando all'interno di questo work package sta proprio sta diciamo predisponendo una serie di eh documenti sugli aspetti legali e sulla privacy. Questi documenti vengono sostanzialmente consegnati a chi si occupa di aspetti etici e di GDPR. Perché? Perché ovviamente noi abbiamo delle criticità che abbiamo rappresentato nel gruppo numero due e dunque nel gruppo che si occupa di aspetti legali e sul sulla privacy. Vi dicevo appunto che eh ad esempio a livello locale ci sono delle applicazioni diverse della normativa sulla sulla privacy e questo ci deve fare interrogare perché se la normativa è una dovrebbe essere l'applicazione comune mentre invece ci sono delle diciamo forme molto creative anche per per applicare le normative. Quindi questi aspetti vengono consegnati al gruppo sugli sugli aspetti etici sul DGDPR. Perché? Perché si mettono in evidenza che cosa? Le differenze. Abbiamo messo in evidenza delle differenze importanti ad esempio sulla archiviazione dei dati genetici genetici. È un bel tema questo. Si dà per scontato una serie di cose che scontate non devono essere e soprattutto devono essere messe a conoscenza delle tante riette lax che possono esistere sul in tutto il mondo. Questi aspetti quindi legali, data privacy, etici, GDPR vanno poi a confluire su questo sviluppo di questa piattaforma tecnica. Vedete le frecce? Sia la parte della piattaforma tecnica che la parte regolatoria. Noi lavoriamo all'interno del progetto Facilitate anche con le grandi autorità regolatorie e voi mi insegnate quali sono. Dunque dal punto di vista del processo ovviamente questo processo è un processo che è strettamente correlato all'analisi di tutti gli interessi di tutti i partner, i famosi 29 partner del progetto Facilitate. Alla fine sostanzialmente si dovrebbe compiere questo shift, questo passaggio a quel paradigma di cui vi avevo parlato all'inizio. Quindi un cambio di paradigma per cui il consenso informato per esempio come strumento di base non è più soltanto uno strumento che viene confezionato da uno di quei quattro settori dell'innovazione, ad esempio la pubblica amministrazione, ma viene confezionato mettendo insieme tutti gli interessi di tutte le quattro aree dell'innovazione, inclusi i pazienti. Questo cosa significa sul piano pratico? Significa che il consenso informato non è più costituito da 50 pagine scritte piccolo 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 come i bugiardini. No, no, è un consenso che ovviamente viene innanzitutto è flessibile, innanzitutto non sono più 50 pagine scritte piccolo 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 perché io ho la possibilità anche di scaricarmelo sul mio smartphone, il mio tablet, il mio computer e ingrandire ad esempio le pagine. Ho la possibilità di leggere un secondo momento e dunque non sono costretta a scrivere la firma subito nel giro di tre minuti perché il tempo è denaro, non è vero. Il tempo dell'informazione è tempo di cura per cui io ho il diritto di avere i miei tempi per capire quello che sta succedendo eccetera eccetera eccetera. Quindi capite ci impieghiamo, ci impiegheremo quattro anni, ci stiamo impiegando quattro anni ma questi quattro anni credo comunque che saranno ben stesi per i risultati che porteremo a casa. Un esempio di questo grandissimo lavoro è il glossario. Allora per quanto riguarda il glossario volevo chiedere a Ursula e a Stefania, Stefania però in collegamento quindi mi dovete dire voi da laggiù se c'è la possibilità di... intanto Ursula racconta la sua esperienza. Iniziamo con una metafora. Non solo un paziente esperto ma chiunque si approcci a un progetto europeo della portata di Facilitate. Si sente l'agronomo K. La citazione letteraria è chiara, credo, no? È il castello di Kafka. Ricordiamo che è un libro incompiuto quindi in questo caso lo rendiamo compiuto noi in modo innovativo con le nostre azioni. Torno alla metafora della lezione che ho condiviso con voi nell'altro incontro. Vi ricordate il sistema solare? No? E dicevo il sistema solare rappresenta perfettamente tutti i punti comuni che noi pazienti esperti nei singoli ambiti di specializzazione e di competenza abbiamo in comune e poi ogni patologia ha il suo pianeta. Allora Facilitate è un'esperienza importantissima perché nessuno di noi può rimanere sul proprio pianeta ma quindi è costretto a prendere un'astronave e viaggiare e guardare gli obiettivi degli obiettivi comuni e quindi è un livello più su e è un esercizio teorico professionale estremamente stimolante. Quindi come dire vi sto raccontando questo aspetto esperienziale proprio per farvi toccare un consiglio metodologico proprio perché il castello noi lo vogliamo rendere un'opera compiuta è l'approccio dato è chiaro che in ogni contesto bisogna avere una cornice no? La cornice di riferimento va ricostruita in cui puoi collocare diciamo la propria azione, il proprio pensiero e la propria professionalità ma in questo caso io consiglio un metodo induttivo non deduttivo è molto complesso, è molto, è un progetto a tanti livelli quindi procedendo in modo induttivo quindi dal basso verso alto quindi dal dettaglio poi piano piano si sale e chiudo poi raccontando e per farvelo proprio toccare più da vicino l'ultima riunione che abbiamo avuto che è stato proprio sulla tassonometria tassonomia, tassonomia, giusto? quindi sembra una cosa secondaria ma voi capirete quando parteciperete a questo tipo di gruppi di lavoro quanto sia importante per un paziente esperto forse come vi ho raccontato anche l'altra volta di portare tutta la vostra valigia allora la valigia è fatta di competenze esperenziali come abbiamo competenze tecniche fatte con neopati ma anche ognuno di noi ha altre professionalità fa altre cose portate nella valigia tutto perché in questo gruppo di lavoro chi aveva più esperienza da un punto di vista di normativa chi ha anche semplicemente un maggiore esercizio logico-filosolfico nell'analisi diciamo dei singoli termini però un lavoro di gruppo dove veramente come posso dire le differenze danno valore allora chiudo semplicemente dicendo perché progetti come facilitate sono importanti prima di rispondervi ve la rigiro a voi questa domanda a tutti gli effetti in questi progetti il paziente esperto è una professionalità e questo è un approccio estremamente importante che dobbiamo imparare tutti quanti a gestire non si può rimanere chiusi nei propri ambiti di competenza ma siamo dei professionisti siamo dei professionisti della salute quindi spero di avervi reso più vicino questo grande castello come posso dire e i suoi labirinti è una bella esperienza e spero di vedere alcuni di voi nel gruppo di lavoro ripasso la parola intanto a Sabrina e poi non so se siamo collegati perfetto grazie Ursula allora io a questo punto farei così chiederei soltanto a Stefani di pazientare ancora un attimo finisco la mia presentazione così almeno può mettere le sue slide e così facciamo una cosa per volta allora quindi rispetto al glossario lancio ovviamente la richiesta poi a Stefani di andare poi nel dettaglio però il glossario è una di quelle attività che ha determinato uno dei lavori secondo me più interessanti del progetto Facilitator perché c'è un livello tecnico che viene gestito all'interno dei due work package due e tre per cui ci sono gli aspetti legali gli aspetti etici, regolatori eccetera dei due work package questo glossario tecnico in cui noi come pazienti esperti e upati siamo dentro e collaboriamo attivamente con tutti gli altri appunto ricercatori, scienziati avvocati legali eccetera questo glossario tecnico si confronta sostanzialmente in modo continuo con lo stesso glossario però visto dal punto di vista dell'engagement dei pazienti e della diciamo del public engagement che è invece un'attività del work package se in cui è inserita Paola Kruger il fatto di rendere più interoperabili anche all'interno dei work package queste attività ci permettono di lavorare sul glossario tecnico con un linguaggio più prossimo alle persone ok? perché le competenze derivano da competenze tecniche che sono presenti nel work package numero due sugli aspetti legali e regolatori sostanzialmente work package numero tre sugli aspetti del GDPR eccetera e il work package numero sei che invece è dissemination e communication nei confronti appunto del grande pubblico il fatto di lavorare insieme ci permette sostanzialmente di creare un glossario che è facilmente consultabile da chiunque costruito però partendo da una base diciamo legale etica e regolatoria fatta da diciamo specialisti ok? questo è un esempio di attività e non l'abbiamo ancora finito e quindi andremo ancora avanti per un po' però in questo glossario ad esempio interessante la discussione e il confronto fatto appunto sui sinonimi no? persona paziente soggetto eh andiamo avanti il consorzio appunto è governato sostanzialmente da una serie di commissioni e comitati sono questi il prossimo General Assembly è a Bordeaux a dicembre il 15-16 dicembre e durante queste assemblee generali normalmente ci sono presenti tutti i partner e c'è un confronto attivo tra altre cose sono invitati anche gli osservatori e ci sono degli impatti diciamo degli impatti attesi gli impatti attesi ovviamente sono rappresentano i diversi punti di osservazione di questo di questo facilitated di questo progetto facilitated dunque ci sono impatti sui pazienti e dunque rendere ancora più capaci e competenti le persone sul processo di decisione di presa di decisione condivisa quindi aggiungiamo sempre lo shared di prima del decision making shared decision making non soltanto decision making che fa la differenza per i professionisti della sanità e dunque anche in questo caso come si prendono le decisioni però partendo appunto da una serie di paradigmi anche che cambiano rispetto al precedente modo di lavorare abbiamo già affrontato fino adesso i regolatori e quindi tutto il mondo regolatorio le stesse commissioni interne alla commissione europea che si occupa di ricerca ovviamente sugli open data sulla ricerca fair eccetera il mondo pharma e la società in generale ovviamente restituendo maggiore trasparenza sui processi appunto legati alla gestione dei dati nelle sperimentazioni cliniche e su questo mi collego anche alla necessità anche da parte di Accademia del paziente esperto Upati di fare quella terza missione delle università cioè il public engagement e dal punto di vista delle attività di Accademia dovrebbe esserci ancora più disseminazione ad esempio nelle scuole nei ragazzi giovani perché la sperimentazione clinica la si può spiegare anche a ragazzini delle elementari ecco perfetto vi assicuro che anche mio figlio che fuori 13 anni sa che cosa è una sperimentazione clinica dunque con questo ho concluso e adesso passo la parola a Stefania Piras che è in collegamento da dalla Sardegna grazie Sabrina mi sentite? eccola eccola perfetto buongiorno a tutti ok ciao Stefania ciao Stefania ciao mi fa proprio piacere ti lascia la parola grazie grazie allora mi chiamo Stefania Piras sono un paziente esperto in ricerca e sviluppo delle terapie innovative e tecnologie digitali per la salute sostanzialmente ho fatto il vostro percorso che voi state concludendo oggi io l'ho concluso l'anno scorso e ho aggiunto proprio perché mi piace continuare a formarmi il percorso di cui stavo parlando anche Sabrina di Unitelma sono felicissima come si vede insomma di essere qui connessa con voi per parlare della mia esperienza come paziente esperto al meeting semestrale che si è tenuto a giugno a Parigi presso la sede della Sanofi che è il leader del progetto Facilitate allora sono state due giornate intense cioè operative ricche di confronti scambi e quello che mi è restato è veramente l'ascolto cioè ho trovato tutti propensi ad ascoltare ed è bellissimo soprattutto insomma in questi ambiti così tecnici questa esperienza mi ha reso ancora più consapevole dell'importanza e dell'essenzialità dell'ascolto delle prospettive dei pazienti soprattutto di quanto sia prezioso coinvolgere attivamente il paziente come co-creatore nella ricerca clinica al meeting c'erano più di 50 partecipanti tra pubblici e privati c'era Unimore che è l'università di Modena in Reggio Emilia stiamo parlando anche Sabrina che è considerato una delle migliori università in Italia per l'insegnamento e la ricerca sono il coordinatore loro sono il coordinatore del progetto Facilitate c'era l'università libera di Bruxelles insomma per farvi capire un po' tutte le parti coinvolte all'interno del progetto poi c'era Odisseus che si occuperà della piattaforma che stavamo vedendo anche nelle slide di Sabrina Inpeco che è un'azienda leader globale insomma dell'automatizzazione dei laboratori lo stesso collaborerà in diversi work packaging e poi c'era Cittadinanza Attiva Eurordis e poi c'eravamo noi come Accademia del paziente esperto e opati quindi a rappresentare la voce del paziente allora durante questo meeting sono state organizzate delle sessioni di approfondimento quindi in gruppi più piccoli proprio per favorire l'interazione tra tutti i partecipanti e affrontare così al meglio le sfide legali e eretiche legate appunto ai dati derivati dagli studi clinici poi in un secondo momento queste sono state integrate nelle sessioni plenarie durante queste sessioni abbiamo esaminato quadri etici e casi d'uso anche ispirati a situazioni reali poi come diceva Sabrina c'è stato uno spazio dedicato anche al glossario e tuttora appunto stiamo lavorando allo sviluppo di un glossario dedicato ai pazienti con l'obiettivo di fornire una lista di termini chiave accessibili e presentati in modo comprensibile che siano semplici per i pazienti se volete adesso nella presentazione di Sabrina o condivido un attimo eh so farò la condivisione perché così vediamo ecco qua vedemi se vedete ecco questo è eh l'esempio cioè quello che ci che troveremo poi sul sito di facilitate che vi invito già ad andare a curiosare perché è ricco di di contenuti ci sono spiegati tutti i pacchetti di lavoro mh di cui appunto richiamo stava parlando anche Sabrina e qua nella sezione risorse troveremo il glossario ok eh in maniera molto semplice eh ci saranno tutti diciamo i termini al quale stiamo lavorando che per noi necessitano di una spiegazione ma soprattutto di una spiegazione chiara eh e qua siamo eh non solo spiegheremo in maniera chiara ma ehm l'obiettivo è anche quello di diciamo cercare di aggiungere immagini per facilitare la comprensione immagini video insomma comunque eh questi sono alcuni termini al quale stiamo lavorando come dicevo appunto siamo proprio in questo è il lavoro che stiamo facendo in questo in questo momento ehm tra l'altro noi eh come al progetto del grossario eh stiamo portando un contributo significativo grazie alla documentazione chiara e semplificata dell'Accademia del paziente esperto il quale è accessibile consultabile tramite il portale toolbox e opatiche durante quest'anno avete avuto modo di di conoscere ed utilizzare ehm comunque il coinvolgimento attivo del paziente è fondamentale per il successo del progetto eh rappresenta proprio un elemento centrale della visione di facilitate ma eh in effetti ricordiamoci anche che il coinvolgimento del del paziente nella ricerca clinica non solo migliora la qualità della ricerca ma assicura anche che gli interessi dei dei pazienti siano rispettati eh durante la conferenza a Parigi abbiamo affrontato anche il tema eh del riutilizzo e dell'uso secondario dei dati clinici ehm e per affrontare le sfide legate a questi argomenti è essenziale adottare una una prospettiva centrata sul paziente eh e questo richiede una stretta collaborazione e allineamento come stiamo dicendo anche Sabrina appunto di allenamento tra i gruppi legali e i gruppi etici ehm che nonostante partano da basi diverse condividono l'obiettivo di garantire che la ricerca clinica sia condotta in modo etico e legale per il beneficio dei pazienti eh e questa collaborazione è cruciale proprio per trovare un equilibrio tra questi aspetti appunto tra gli aspetti legali ed etici dell'uso dei dati clinici eh e attualmente ci stiamo dedicando a questo con dei confronti costanti cioè c'è proprio una continua collaborazione tra i gruppi legali ed etici quindi non solo la collaborazione tra appunto i gruppi di lavoro diversi eh ma proprio i gruppi legali ed etici che mh condividono lo stesso obiettivo e lavorano proprio per semplificare insomma e creare una documentazione adeguata a quello che è appunto il raggiungimento dell'obiettivo del progetto ehm un altro argomento che abbiamo trattato è la restituzione dei dati ai pazienti eh che è un elemento importantissimo nella ricerca clinica che promuove la trasparenza quindi la la fiducia e il coinvolgimento dei pazienti eh facilitate rappresenta un nuovo approccio proprio nell'ambito della restituzione dell'uso secondario dei dati clinici ehm allora il progetto si basa su lavori precedenti ma ciò che lo contraddistingue cioè che lo rende innovativo è proprio l'approccio centrato sulla persona ehm e questo approccio è il punto di partenza ehm per lo sviluppo del 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 progetto quindi compresi i quadri etici che cercano eh di garantire il massimo controllo possibile ai partecipanti nelle decisioni relative ai propri dati clinici ehm quindi consentire ai pazienti di accedere ai risultati della ricerca a cui hanno partecipato eh è un passo significativo verso una pratica clinica più centrata sul paziente eh e questa è la base su cui si sviluppa il progetto facilitate ehm che dire io vi ringrazio ringrazio tantissimo Accademia del paziente esperto e opati per avermi coinvolto in questo meraviglioso progetto e in altri eh ringrazio il team di Unimore che per lo splendido e immenso lavoro che che sono facendo insieme a tutti i partner del progetto quindi vi ringrazio tantissimo per per l'attenzione insomma vi auguro un buon proseguimento comunque sono sono collegata qua con voi grazie 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 perché le testimonianze dirette secondo me sono quelle più più belle poi quindi eh e allora a questo punto chiederei di intervenire ad Angela Zarello che è sempre in in collegamento perché ecco la nostra Angela si sta affacciando al progetto facilitate e la sfida se vogliamo di di Angela in questo momento è capire facilitate e quindi entrare poi concretamente eh all'interno di questo progetto e quindi a te la parola per condividere anche con tutti noi un po' eh se vogliamo le le i dubbi le domande che che ci si pone eh anche se vogliamo le ansie io all'inizio ero un po' sola diciamo così a gestire le proprie ansie però poi oggi cioè dai abbiamo costruito e stiamo costruendo un bellissimo gruppo grazie buongiorno a tutti grazie a voi buongiorno a tutti io come diceva Sabrina sto entrando nel progetto e quello che sicuramente ho potuto notare è è che ho notato anche durante le ultime riunioni che ci sono state che è un progetto sicuramente ambizioso ed è tosto il tema è abbastanza difficile infatti ho notato che ci sono veramente tantissimi aspetti da integrare capire sicuramente da approfondire e nonostante il mio bagaglio culturale cioè il confronto che c'è tra tra noi durante le riunioni porta sempre a evidenziare cose che di cui non ero neanche a conoscenza ad esempio durante una riunione ho potuto notare come la definizione stessa tra come diceva anche Sabrina come dicevano anche Ursula e Francesca e Stefania scusatemi cioè anche la definizione stessa tra la differenza di definizione tra persona paziente e soggetto non è così banale ma sono dei termini che sicuramente all'interno del glossario devono essere inseriti e definiti in modo corretto le testimonianze sicuramente e il coinvolgimento dei pazienti è fondamentale come spiegavano già e come avevano già detto Ursula e Stefania poiché veramente il confronto che c'è durante queste riunioni porta veramente a una miriade di termini nuovi e sicuramente di approcci differenti con bagagli differenti culturali che possono portare veramente a qualcosa di secondo me molto bello e ho ancora tanto da capire e tanto sicuramente da vedere nelle prossime anche riunioni però consiglio a tutti di ovviamente partecipare perché partecipando sicuramente avrete modo di capire tanti termini tante nuove affacciarvi a nuove esperienze grazie Angela grazie grazie tantissimo davvero grazie stupenda quindi ce la possiamo fare tutti quanti dai ok bene grazie veramente tantissimo per a tutti voi ovviamente per aver ascoltato la nostra presentazione appunto di facilitate ho visto che ci hanno raggiunto anche degli amici non so se sono ancora qua massimo chiaramonte giorgia tartaglia che erano qua ed erano sì sì facciamo rientrare perché stiamo facendo diverse cose anche con massimo chiaramonte anche su altri aspetti però e questo è un po' il gruppo diciamo così mancano anche tante altre persone però è un modo comunque per dare continuità tante attività ovviamente molte sono legate a facilitate altre invece sono un po' diverse al grazie ciao massimo buongiorno ciao giorgia buongiorno e dunque è una è un modo appunto per rendere ancora più creare ancora più opportunità e possibilità appunto di partecipare alle diverse attività di di accademia e dunque adesso vi taccio un attimo perché sono parlato veramente tantissimo se ci sono delle domande se ci sono delle delle curiosità se ci sono qualsiasi cosa ecco noi ovviamente se possiamo rispondiamo non entriamo tanto nel dettaglio tecnico proprio del progetto facilitate per esempio perché richiederebbe davvero un livello di confronto importante e non si può sicuramente risolvere in tre minuti grazie 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 complimenti per questo progetto mi sembra molto impegnativo tu parlavi all'inizio di cambio di paradigma ma parlando di queste cose a me mi sembra più che altro che più che un cambio di paradigma è una rivoluzione perché ho notato che nel consorzio c'è una grossa impresa l'avete anche nominata qual è e noi oggi sappiamo che il grosso dei dati sta nelle mani delle grosse aziende cioè il grosso della ricerca sulle cliniche si fa nelle grandi aziende il mio la mia la prima domanda è questo tipo di approccio va oltre a impattare sulla privacy sulla privacy tutte queste questioni legali impatta su una serie di altre questioni come per esempio la protezione brevettuale la data protection che sono quegli elementi che le aziende che fanno un investimento ritengono importanti per poter riprendere l'investimento fatto nella ricerca quindi anche questo allora io ho lavorato sia nell'università che lavoro in azienda è chiaro che da un punto di vista soprattutto accademico la vera disposizione poter avere a disposizione i dati delle cerche è fondamentale la ricerca non ha frontiere e barriere però spesso ci sono degli altri tipi di interessi anche non solo nel mondo privato ma anche nel mondo accademico sui quali bisogna intervenire forse anche con degli interventi legislativi perché oggi ci sono per dirne una quando si inizia una ricerca spesso la protezione brevettuale impedisce la pubblicazione dei dati perché se no non posso fare la protezione brevettuale si può una volta fatto il firing del brevetto poi magari inizio a lavorare sui dati la data protection mi serve per poter allungare la vita residua del brevetto dopo il periodo di sviluppo clinico quindi tutte queste cose credo che dovranno essere anche affrontate e credo che ci siano all'interno del progetto infatti allora domanda importantissima e legittimissima allora dal punto di vista del progetto facilitate la prima grande rivoluzione è sul concetto di dato glossato non è uno strumento banale perché il facilitate va a sostanzialmente regolamentare in modo diverso non la proprietà del dato l'accesso ai dati dunque dal punto di vista della proprietà del dato il consenso informato deve essere fatto in modo diverso rispetto a quello che è oggi quindi quello che è l'accesso al dato invece va a toccare quegli interessi lì perché il momento in cui la proprietà del dato passa alla allo sponsor che finanzia l'accesso non viene più dato mi spiace dato il dato ecco e dunque e questo è un po' uno dei gra uno dei grandi problemi perché anche dal punto di vista ad esempio soltanto della forma del consenso informato io oggi posso dare un consenso informato a fare una determinata attività ma quell'attività può modificarsi perché ci sono anche ad esempio degli adeguamenti ai protocolli di ricerca di studi adattivi io so che cosa potrei fare ma in realtà potrei fare anche qualcosa di diverso allora il consenso informato deve essere flessibile deve modificarsi e anche rispetto comunque al riutilizzo dei dati il consenso informato può essere effettivamente importantissimo perché io oggi mi trovo nella condizione di dire no ma un domani io potrei dire sì e io devo avere la possibilità di cambiare oggi il cambiare la risposta a un consenso informato è un processo e non so se avete mai avuto la possibilità di fare è una roba impossibile impraticabile perché non si capisce ma a parte il fatto che cambiano sempre le persone e vabbè gli indirizzi di poste elettroniche certificate legate al appunto ai consenso informati cambiano cambiano e quindi abbiamo perdiamo proprio i punti di riferimento quindi deve esserci un sistema diverso ecco perché vogliamo andare verso una direzione diversa ovvio ci come posso dire ci confrontiamo quotidianamente con interessi enormi però la ricerca si fa se noi la vogliamo no? mi sembra come posso dire la base proprio del ragionamento e dunque è un lavoro che ovviamente richiede impegno richiede conoscenza richiede sicuramente anche una preparazione di un certo tipo ed è uno dei motivi per cui ci mettiamo veramente in gioco ogni volta che partecipiamo ad un meeting o ad un incontro perché sì abbiamo l'agenda dei contenuti però non sappiamo mai più o meno che cosa cosa succede ecco a volte si litiga anche alzando leggermente la voce però sempre politically correct quindi in un certo modo però ecco e siamo però importantissimo questo una rivoluzione siamo nella fase della rivoluzione ci sono altre domande io ho paura di muovermi complimenti anche da parte mia perché insomma effettivamente sembra sembra veramente una montagna da scalare però insomma credo che siate ben attrezzati per arrivare fino alla vetta allora io ho due domande la prima è questa volevo sapere se Facilitate è l'unico progetto in questo campo o se ce ne sono altri a livello europeo di Unione Europea e poi ti faccio anche subito la seconda così poi mi taccio come allora siccome le normative sulla privacy sono diverse a seconda dei paesi europei nonostante ci sia comunque come dire un ombrello normativo che c'è però insomma non ce la facciamo è abbastanza scontato non solo in questo campo anche in altri campi ecco come fate voi ad armonizzare questa materia su un cioè in una in un campo che è in divenire che ha questi aspetti etici molto molto forti ecco mi chiedevo se per caso non avete l'aspirazione anche a proprio cambiare la legge o comunque dettare una nuova legge fare in modo che ci sia una come dire si vada verso una norma comune sulla privacy a livello europeo partendo da insomma dalla materia della certo allora per quanto riguarda rispondo paradossalmente la seconda perché è la più semplice nel senso che è stata una questione di come ci siamo approcciati al dato il dato è vero che ha diversi punti di osservazione ma di chi è il dato del paziente quindi partiamo dal paziente e abbiamo iniziato sostanzialmente a e a costruire il percorso che fa il paziente una specie di patient journey all'interno appunto del mondo del data protection quindi abbiamo iniziato a costruire questo percorso non è stato semplice ovviamente ma ma assolutamente no perché paradossalmente anche il primo contatto quindi l'accesso a è diverso quindi abbiamo dovuto veramente fare e abbiamo affrontato questo ponendoci le domande quindi quali sono le domande che i pazienti si fanno nel momento in cui entrano all'interno di un trattamento sanitario e quindi abbiamo costruito il percorso quel percorso è stato poi arricchito da una serie appunto di riflessione degli esperti e quindi questo ovviamente costruito sui diversi paesi ha permesso di arrivare a un certo punto ad un percorso tra virgolette ideale e su questo percorso ideale quindi diversi livelli di armonizzazione e allineamento ha anche messo un po' in evidenza diciamo delle criticità criticità che a volte si trovano anche a livello diciamo degli stati degli stati membri è diverso un sistema pubblico da un sistema privato sistema sanitario pubblico un sistema sanitario mix ad esempio sistema privato puro cioè i paesi europei non hanno un solo modello di sistema sanitario ma sono tanti modelli di sistemi diversi e dunque siamo partiti però dalla quotidianità e quel sapere di cui parlava Ursula quel sapere esperienziale che soltanto noi sappiamo e non soltanto e non gli altri perché gli altri li costruiscono pensano di costruire ma in realtà se non ci parla non ci chiedono se non ci chiedono possono costruire solo a metà e su questo guardo massimo chiaramente perché facciamo anche dei movimenti dal punto di vista proprio anche degli interventi dei contributi basati proprio sulla co-creazione co-produzione quindi il consenso informato per esempio è co-creato non può essere creato solo da e questa è la seconda domanda la prima domanda invece rispetto ai progetti europei allora ovviamente è un'area in pieno sviluppo perché dal punto di vista anche semplicemente nazionale ma anche internazionale grazie a questo premio che abbiamo ricevuto anche poche settimane fa e qua c'è anche l'altro vincitore delle All Digital Weeks Fulvio Ananasso di cui vi ho già parlato prima che è sempre lui stati generali dell'innovazione ecco c'è una diciamo Eupati e anche Accademia del Paziente Esperto Eupati si sta facendo conoscere molto e quindi anche se attualmente in questo momento abbiamo come unico progetto il progetto Facilitate però in ballo diciamo così abbiamo altre progettualità una delle sfide che vorremmo appunto cogliere e proprio quelle delle competenze digitali per i pazienti caregiver esperti in appunto digitale tecnologie digitali per la salute ovviamente e questo richiama anche il corso Unitelma che è il risultato di un partenariato appunto tra Unitelma il posizionamento il posizionamento quello che è oggi il posizionamento dell'Italia all'interno della ricerca ad esempio sulle digital therapeutics o sulle piattaforme o telemedicine eccetera eccetera dunque il digital health eccetera quindi da questo punto di vista l'Italia ha una grande opportunità l'opportunità deriva anche non solo dal PNRR ma dobbiamo accogliere le sfide in modo giusto e per fare alcune cose ovviamente il principio di base è la co-creazione e la co-produzione non si può fare a prescindere da e dunque da questo punto di vista ci sono delle progettualità in essere cioè o meglio in divenire ecco in essere ma in divenire ok quindi però non posso spoilerare come dice sempre mio figlio le cose no ma siamo diciamo delle antenne sul territorio ecco ovviamente abbiamo comunque delle richieste di partecipazione a gruppi di lavoro a gruppi di di ricerca cioè siamo presenti in tanti in tante commissioni in tanti gruppi guardo Giuditta perché ormai non sa neanche più come seguire per esempio solo la mia parte poi immagino comunque mettiamo insieme tutto il gruppo e le partecipazioni aumentano ovviamente in modo esponenziale quindi no no di opportunità ce ne sono anche di scrivere articoli sì sì no certo certo no no io stessa sto seguendo però anche in questo caso non essendo ancora formalizzato il rapporto sto seguendo appunto un grandissimo progetto a livello nazionale con un importantissimo università però non posso ancora dirlo perché è un work in progress dal punto di vista diciamo della formalizzazione volevo chiedere una cosa intanto complimenti per questo importantissimo e nobile progetto e volevo sapere effettivamente come potremmo noi collaborare a me interessa particolarmente perché per la mia patologia noi abbiamo fondato un'associazione e ci sono molti pazienti molte che firmano i consensi informati senza leggere e non sanno neanche se stanno facendo un farmaco approvato oppure un farmaco sperimentale quindi una sperimentazione clinica mi interessa particolarmente questa cosa volevo sapere in che modo potevamo magari anche dare soltanto una mano o partecipare al progetto ecco grazie ok allora questo a questa domanda chiedo a Giuditta di poter rispondere perché no possiamo allora no allora dal punto perché è un gruppo siamo un gruppo e quindi ognuno di noi ha un pezzo allora dal punto di vista del coinvolgimento e del appunto della partecipazione occorre sicuramente contattare Accademia del paziente esperto e dunque contattando Accademia poi si poi rimandano diciamo così a me a noi i contatti e poi noi li inseriamo nei gruppi di lavoro ovviamente in modo soft Angela è la testimonianza diretta quindi per partecipare subito a un gruppo di lavoro come dire bisogna prepararsi quindi non è cosa semplice quindi facciamolo per step ovviamente è un modo comunque per accompagnare le persone a capire molto di più anche il modo di lavorare ecco ok prego sì scusa prima ok volevo chiederti ho visto nella presentazione che viene spiegato per chi è Facilitate ma avete anche già un'idea nel concreto di come potrebbe venire introdotto all'interno delle aziende pharma piuttosto che delle università degli IRCS delle aziende ospedaliere perché mi immagino che potrebbe essere un grandissimo strumento anche nel mondo ospedaliero proprio per evitare magari duplicazioni quindi non so se già c'è un'idea nel concreto di come potrebbe venire immesso nelle realtà allora il l'output di questo progetto saranno appunto gli standard e i requisiti minimi oltre al fatto ovviamente di questa piattaforma c'è c'è tutto un lavoro anche che si sta facendo anche a livello diciamo più normativo anche ma a livello europeo per creare proprio anche la parte più legislativa se vogliamo ma questa è una competenza che non non seguo direttamente però so che c'è questa necessità di allinearsi tra quello che è il contenuto prodotto da un progetto e la sostenibilità a lungo termine di quel prodotto del progetto ok e in questo caso la sostenibilità deriva dal fatto che se cambiamo il paradigma cambiamo anche tutte le tutti i regolamenti quindi è un lavoro che ovviamente viene fatto dal dal gruppo se ne parla anche all'interno delle assemblee generali però non io non sono dentro a questi meccanismi specifici perché potrebbe essere se questo diventa uno standard volontario o se diventa uno standard di legge perché se lo standard volontario l'adesione è volontaria chi ci vuole aderire ci aderisce chi no no se diventa uno standard di legge è una cosa diversa perché l'impatto sarebbe un po' forse più forse avremo un effetto più migliore più efficace lo strumento diventa più efficace certo allora innanzitutto il progetto Facilitate usa anche i risultati di altri due grandi progettini che hanno già lavorato su cui che hanno già lavorato appunto sugli stessi temi ma in modo diverso e dunque abbiamo già tre progetti che stanno lavorando sull'armonizzazione la richiesta c'è ma da parte appunto anche delle delle istituzioni che si occupano di legiferare e di regolamentare quindi la richiesta c'è si tratta sostanzialmente di dare diciamo la tra virgolette non dico la soluzione più giusta ma o meglio sì la soluzione più giusta armonizzandoci anche a nostra volta con i risultati degli altri progetti però sono già tre con un budget totale per esempio di milioni di euro spesi proprio su questo tema e da almeno sei anni che si parla di sì grazie appunto anche gli altri progetti però la volontà ovviamente non è quello di fare soltanto un come posso dire una riflessione interna ecco ma rendere effettivamente sostenibile quello che è la riflessione interna nell'intero ecosistema più relativa meno relativa al progetto insieme più relativa al sostegno dell'industria se ho capito bene qua c'è un'azienda farma o forse più di una allora una grande chiedo scusa posso chiedervi di mettere l'ultima diapositiva della mia presentazione perché almeno mettiamo tutti i loghi di tutte le di tutti i partner perché io intanto che recuperano la slide ti faccio la domanda rispetto alle iniziative che hanno un finanziamento dall'industria soprattutto all'interno degli ERN nel momento in cui c'è una sola industria diciamo storcono un po' il naso idealmente cercano due tre sponsor perché questo poi non sempre è vero perché dipende poi da come è condotto il progetto però spesso per la comunità medica l'ERN è molto physician driven ma vedo insomma tantissime aziende la presenza diciamo un'iniziativa multisponsor è molto più ben voluta però volevo chiedervi una riflessione su questo poi adesso vedo che avete tantissimi tantissimi sponsor alle spalle però magari più una riflessione laterale sul single sponsor rispetto al multisponsor quando poi il finanziamento arriva dall'industria allora innanzitutto mi inserisco all'interno dell'esperienza della progettazione europea quindi la mia risposta è contestualizzata all'esperienza della progettazione europea e dunque credo che in altre situazioni magari valgono altri ragionamenti in questa precisa esperienza per esempio il fatto che il programma INI sia bilanciato nel finanziamento cioè 50% della parte pubblica e 50% della parte privata che deriva dall'FPA bilancia anche il diciamo il confronto tra gli interessi dunque quando io prima vi dicevo del dello stesso diritto di voto lo stesso valore al voto significava questo che io Sabrina Grigolo lei Ursula Bonetti Stefania Piras Angela Zarello tra un po' e le altre persone che compongono appunto il gruppo di lavoro hanno lo stesso diritto dell'amministratore delegato o del responsabile dell'area del diciamo del responsabile di area di una grande multinazionale lo stesso è ovvio che bisogna essere affidabili competenti bisogna essere capaci comunque anche di diciamo di portare le proprie istanze e questa è una forma però di dialettica che parte da un ragionamento non soltanto di partecipazione dei pazienti ma di partenariato dei pazienti quindi l'essere l'avere l'expertise di base ovviamente ci rende un po' più interlocutori con gli altri credo che da questo punto di vista anche chi ha fatto parte anche di grandi tavoli di lavoro questo l'abbia vissuto anche direttamente ovviamente il guardo massimo il grande tema su cui si deve anche un po' fare una riflessione un po' più generale è la capacità di portare gli interessi dei pazienti a quei tavoli lì e non altri ma se noi siamo integri dal punto di vista anche della posizione e questo lo dico perché io ho fatto il corso a livello europeo ormai nel 2018 però una delle sessioni che a me sinceramente è piaciuta di più è quando abbiamo affrontato il codice etico e i principi del paziente esperto Eupati quindi il codice scritto vi invito anche a andarlo a consultare sul sito internet di Eupati però è un principio che è un codice secondo me fondamentale perché lì dobbiamo essere davvero attenti anche ecco quindi sul monosponsor io credo che comunque sia sempre legato al tipo di progetto che si fa perché nel programma IMI c'è il 50% del finanziamento in altri progetti ad esempio nel Horizon non c'è questo bilanciamento dei fondi e sono comunque fondi ad esempio il 75% di fondi pubblici rispetto comunque a un 25% di cofinanziamento ma qui guardo Fulio perché lui è molto più bravo di me nel 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 consorzio ad esempio di altri progetti europei può esserci ad esempio una sola farma rispetto agli altri che sono comunque pubblici o magari sono fondazioni eccetera dipende dal tipo di progetto dal tipo di programma ovvio che però un agreement interno sugli aspetti anche etici o meglio una commissione etica interna il progetto dovrebbe esserci secondo me sempre quando facciamo un progetto europeo in sanità per la medicina perché il comitato etico interno di progetto secondo me dovrebbe esserci sempre ma è una mia posizione personale ovviamente se non ci sono altre domande invece invece volevamo parlarvi di un'ultima cosa le altre due cose sostanzialmente due allora all digital weeks abbiamo ottenuto il miglior premio il premio per il migliore evento sulle competenze digitali per pazienti cargiver esperti in tecnologie digitali per la salute è stato fatto appunto questa campagna informativa dal 17 aprile al 4 maggio 8 maggio 7 maggio e abbiamo fatto un lavoro partendo dal nostro gruppo di pazienti esperti eupati e pazienti esperti in tecnologia digitale per la salute di Unitelma e questo diciamo questa campagna informativa che sostanzialmente ha rappresentato 6-7 momenti diversi costruiti con appunto i pazienti e dai pazienti ha vinto appunto questo miglior evento all'interno di queste digital weeks e su questo voglio dire che grazie comunque a Fulvia Ranasso è stato il nostro grande coordinatore perché ha coordinato praticamente quanti abbiamo quanti eventi abbiamo fatto in Italia 66 battendo la Spagna vai abbiamo vinto e Massimo Chiaramonte che è qua ha partecipato agli eventi portando la sua esperienza proprio di paziente esperto con diritto di voto e lui è un po' diciamo l'esempio ecco che spesso comunque cito e richiamo la messa in pratica dai e stiamo comunque con Massimo anche concludendo un lavoro con la fondazione Smith Klein di scrittura proprio e di articoli perché una delle cose importanti ora non è soltanto come dice anche Jan Gessler di Europati Europe non è parlare bisogna mettere i piedi e per mettere i piedi bisogna anche saper scrivere e per saper scrivere bisogna scrivere quindi ovviamente dobbiamo comunque scrivere cioè adesso possiamo tranquillamente anche dire la nostra posizione ed è e secondo me questo è l'augurio con cui vorrei chiudere anche questa questa mattinata e credo che chiudendo questa mattinata chiudo anche proprio tutto il corso giusto? Guardo anche che onore davvero però lo farei chiudere a Massimo a Giorgia Massimo dai Massimo viene è sprovvista dai hai tanto da dire Massimo hai veramente tanto da dire dai hai tanto da dire Massimo vi ho salutato e vi saluto nuovamente cosa vi posso dire avete finito il corso quindi mettete in pratica per qualsiasi occasione vi capita mettete in pratica ciò che avete imparato non soltanto per voi ma per chi c'è poi dietro di voi che vi segue credo che siete tutti rappresentanti di associazioni o quantomeno la maggioranza per cui quello che noi rappresentiamo rappresentiamo una un'importante fetta del mondo sanitario e poco fa sono state dette delle parole queste parole messe in pratica proprio perché mi ha mi ha citato come esempio a volte veramente cambiano cambiano il il corso non nella vita ma anche cambiano comunque il corso di alcuni eventi vi capiterà di essere chiamati qualora succeda perché nel nostro paese ci sono anche molte contraddizioni tantissime ipocrisie quindi dove a volte capita di leggere partecipazione del paziente chiamare le associazioni e poi alla fine fanno tutto loro e non ti chiamano e ti ritrovi un documento dove tu non hai partecipato per niente questo è quello che prima diceva Sabrina loro credono di sapere ma forse ecco arrivano al 50 ma anche meno del 50 per cento noi siamo la vera voce noi possiamo dire ciò che sono le cose questo per quanto riguarda un PDTA una linea guida ma anche ne parlavamo poco fa anche sul consenso informato ci sono queste cose che possiamo fare dobbiamo fare e dobbiamo pretendere perché ci sono gli strumenti ci sono i documenti dove dicono che dobbiamo essere interpellati ma non non interpellati a stare seduti a braccia concerte e ad ascoltare ciò che dicono loro e noi dovremmo acconsentire mettere anche la firma a me è capitato anche di rifiutare la firma io non ho voluto firmare in nemmeno due occasioni in Campania e in Toscana perché non era giusto non era giusto perché non eravamo stati coinvolti fin dall'inizio tutto questo che abbiamo come ho studiato io avete studiato voi ce lo stiamo portando a casa ma è da spendere domani da spendere veramente domani di esempi ce ne possono essere tanti io qui vicino a me c'è anche Giorgia Tartaglia io sono presidente di un'associazione e rappresento anche altre associazioni per quanto riguarda un'aggregazione Giorgia è vicepresidente di un'associazione di malattie rare parliamo ed è rappresenta tante altre associazioni in altre aggregazioni e abbiamo avuto più o meno le stesse le stesse esperienze dove devi combattere con i denti con le unghie e cercare di evitare proprio di 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 non di non farti mettere i famosi i piedi in testa che poi a me rimarrebbe pure in forno perché non ho capelli quindi mi rimarrebbe proprio questo è dovete essere forti ragazzi veramente e non farvi non farvi abbattere ci saranno la maggior parte sono le istituzioni che cercheranno di di contrastare però piano 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 io credo che ci arriveremo e come dice una napoletana eh più una simma è meglio quindi più persone partecipano eh a queste a queste cose questi questi corsi più più conoscenza per noi è meglio è più che che ne siamo sì ehm la competenza e la formazione sono alla base per poter interagire o partecipare ai tavoli voi avete iniziato questo primo step questo primo tassello vi auguro di continuare perché oggi eh richiedono un paziente informato informato ed esperto perciò eh buon buon inizio e il percorso sicuramente è lungo le specializzazioni in in vari settori sono diverse però sicuramente è alla base questo inizio di percorso perciò buon inizio a tutti i guanti Ursula vuoi dire qualcosa per chiudere volete chiudere con un'altra citazione letteraria direi direi che quindi l'opera incompiuta eh il castello eh come dire eh lo rendiamo un libro più lungo eh con un approccio c'è comodo questo eh questo taglio che Kafka eh ha inventato eh ma eh io guarderei verso un happy end quindi dove il castello sarà anche nelle nostre mani vi va bene come chiusura? grazie